Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di DANGERO RUSHERS Bene, andiamo pure avanti, che emozioni Allora, c'è questo qua da fare Le quesiti sono, vabbè, tol tesoro, ovvio Massimo tre abilità, massimo tre pozioni Nessuna trappola innescata Allora, le abilità le tengo per le trappole Sperando che non ce ne siano altre E le pozioni tre Spero di non doverle usare ancora Ma presto le useremo anche tante Va bene, andiamo pure a saccheggiare Vai così, finalmente i nostri personaggi Sono belli potenti Vediamo un po', ancora go, meno male Perché sono standard, mi va bene Tanto qui questi, finalmente, perlomeno A meno adesso, non ci sono arcieri Quindi mi va benissimo così, vai Questo Potremmo Non farlo Perché tanto comunque Allora, questo quanto fa? 16 Ah, fa più questo che ne fa due Mi toccherà far così, sento che Uno parato, immaginavo Va bene Chi amazziamo? Purtroppo qui non mi dice chi Invece sì, a quanto pare Mi dice, mi diventa tondo, normale Ok, allora quindi devo andare da lui Che il primo è questo Ok, andiamo qua Perfettico Comunque stava loro Però è giusto per capirci Aia, mi hai fatto male Insomma sì Allora, questo lo amassiamo Grande così E questo lo succhiamo Vabbè, però a meno Lei è quasi piena Mi va bene 9, sì, 9 Ormai lo standard è quello 52 di esperienza Per me Due o tre dungeon Non saliamo Con lui E al 4 o 5 con loro Questo e questo Dai, non c'è malo Sono contento Benissimo Andiamo avanti Andiamo giù Ok, ma questo è da solo Insomma sì Lo spacchiamo in due Come un canarino Solo che tocca subito lui Ci spacca lui Qualcosa Toglie Vabbè, pazienza Insomma sì Ovviamente Mi doveva far male a me Accidenti a lui Vabbè, pazienza Insomma sì Ok Questo sarebbe stato utile prima Vabbè Comincia a darci degli Buoni equipaggiamenti Quando ce li da Quindi sono contento Trappola Quindi prima abilità Ok, è andata Speriamo che non ce ne siano troppi Anche se I dungeon sono sempre più grandi Furia Furia E un critico Un critico maggiorato Di 15 Mamma mia ragazzi Che emozione Adesso lo spacchiamo in 4 Critico 15% in più O più 15 di critico Non ho capito Comunque sia E tanti Perché c'è un Punto esclamativo E perché ce l'ho anch'io Spiega gioco Di qualcosa Ah Caduta massi Usa difendi Per ridurre il danno subito Ho detto Il danno subito È vero Noi difendi Non lo usiamo mai Non ci penso mai Usare quel difendi Ragazzi Sono sempre per l'attacco E le sfraganate Allora facciamo così Quindi qui facciamo così Difendi Ok Perfetto Lui è morto da solo Questo facciamo così E tanti saluti Tac Tac E dovrei morire per la frana Teoria Aia Tutto è cattivo Insomma sì Allora Vediamo un po' Questo qua Vabbè È morto Non dovrebbe arrivare la frana In teoria Ah si è spostato Ah difeso Non so quanto ho perso però Mancidenti Non ho guardato Perfetto 17 Ed ha aspirato Tutto a sé Le cose Questo mi interessava Parecchio Adesso ci sono anche le cose ambientali Oltre la nebbia Speriamo bene Seconda abilità Usata Ne manca una Speriamo bene ragazzi Speriamo bene bene Ok qui Classici Dai così andiamo bene Siamo a tre Abbiamo già fatto Se trovo Cosa vado via subito Il Lo schigno Chi è Prima Lui Ma non lo ammazziamo Niente Quasi Però qua Ci siamo vicini ragazzi Aia Ci siamo molto vicini Aia Accidenti a te Maledetti Eccoci qua Ok Questo Va via Sì Ok Stavo guardando Se effettivamente era lì Poi Questo Lo portiamo via E adesso lo succhia Ok Succhia tutto Va Ecco qui Succhiata uno Peccato Ha succhiato solo uno Vabbè Ottimo Questo è ottimo Perché si fa con due minerali Mineralo Ok Mi va bene Non posso usare abilità Accidenti E speriamo di non trovare altre trappole Se no l'abbiamo pulito Facciamo così Facciamo Così Non lo ammazzo Quindi mi tocca fare così per forza Purtroppo E qui facciamo così E ho fatto una cacata Ovviamente Ci ho pensato dopo Scusate Vabbè Ormai è andata Questo lo uscidiamo Così Tanto lui si Piccia Si accende qui E adesso Questo dovrebbe succhiare tutto Due dai Due mi piace Qui facciamo così Perfettico E questo dovrebbe ammazzarlo completamente Bene Andata Sono contento Posso usare massimo Tre pozioni Ne userei già una Vediamo Perché tu hai poco E quindi usiamola Ok Qui siamo ancora nel range Vediamo un po' Lo sapevi Goblin ninja Stanno soffrendo molto A causa degli incubi Di incubi E hanno scelto Di non dormire più Triste Non è vero Eh in effetti Ok E ci sono ancora quelli normali No sto controllando Perché Se ce n'è uno particolare Devo Cambiare strategia Allora Facciamo così E forse 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 Così Perfetto Ottimo E facciamo così E uno è andato E l'altro è andato Oh vabbè Non ho messo più danni Sto giro Dai Ottimo Mi piace Quando le cose Vanno lissie Lissie Adesso Di qua Ok Questo mi piace No non mi piace di meno Adesso Porca miserica Quindi subiamo più danni Vabbè Pazienza Andiamo di qua Subiamo più qualcosa di buono Ma vava un gulo Ma che cazzo Porca miserica Appena detto che mi piace Quando le cose vanno bene E poi sono entrato tutto male Ma sono tirata Ok 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 Io qua ho paura di andarci Vediamo un po' Ecco Allora Te fai così 16 Te fai così Perfetto Te fai così Ok Uno è andato E questa è la cucchia Questo fa così Perfetto Abbiamo Abbiamo tolto E non l'ha tolto Porca miseria Che cazzo hai fatto Lei ha resistito Evidentemente Tutti hanno resistito Non è possibile Ne ha tolto uno Forse Uno solo Ho detto Non vado di là Posso andare subito No ragazzi Abbiamo perso Non abbiamo fatto i requisiti Perché non devo Farla innescare C'era scritto E devo usare Massimo tre abilità Eh niente È andata Mi dispiace Comunque Andata Pazienza La rifarò La rifarò Ecco È fantastico Speriamo di non morire con lei Che non ci ho pensato a usare Aia Aiaia Eh no Non è che mana Insomma stiamo andando proprio bene bene Allora Il prossimo è questo Però c'è quello No ce la facciamo Ok eccolo qui Questo qui Facciamo così Ecco l'altro succhia Questo mettiamo a posto Perché siamo messi con il porco Ok Adesso non dovrebbe più avere veleno E adesso lei dovrebbe succhiare Uno Una schifezza proprio Porca miseria Eh Comunque siamo fuori range Peccato Allora Lui è messo male Eh vabbè È andata così ragazzi Non ci possiamo fare niente E lei è messa male Ok Siamo ancora in range Ma purtroppo Lì siamo fuori Ispezione Ma va a vangulo Eh che cazzo però Siamo tre su tre di maledizioni C'è una maledizione ogni tanto Non è che mi faccia schifo eh Ok Ok Di qua E questo dovrebbe essere l'ultimo Dopo dovrebbe esserci la uscita Adesso non ho tempo di pensare le frane Ho troppo da fare Vai qui 16 Ottimo Qui non ho più mana Mi sono scusato di dargli mana Accidenti Eh vabbè Dovremmo farcela lo stesso Questo va così Tac Tac Morti Ah non è morto lui Ah si è morto invece Questo lo facciamo morire Eh di una morte prematura Quello con la spada è prima Ok Così dopo ci vado con la baronessa qui Con Katzen Eh vabbè Ce la facciamo Ok Vai Zucchia Perfetto Adesso qui Dovrebbe Farsi abbastanza male Per riuscire a fare tutti e due Ok Perfetto Questo Via Morco Dai Abbiamo limitato Abbiamo limitato Perfetto Stiamo Oh cazzo ci danno tanto Però eh 88 è tanto Eh Sì Oh ce l'abbiamo fatta ragazzi Purtroppo solo due Di questi Me la farò off camera Devo farlo due volte Una volta normale E una volta detto Però ci ha dato questo Meno male Ne sono felicio Perfetto Direi che non è male Poteva andare meglio Ma poteva anche andare peggio Cos'è questo? Oh Questa è un'arma da goblin Che dà più due di magie Di danno magico Di uno di resistenza magica Meno uno di armatura Però è un'arma Quindi va nella prima mano Per forza Scusate Allora Stavo dicendo Questa qui è un'arma Che per adesso non mi interessa Però questo mi interessa tanto Questo mi interessa Questo mi interessa Mi interessa Mi interessa Mi interessa tutto Voglio prendere qualsiasi cosa Quindi andiamo a fare La torre? No no la torre La facciamo poi eh Perché hai piani Anche questa Vabbè facciamo questa Questa la rifarò off camera Perché mi mancano Delle cose da fare E siamo a posto Dai vediamo un po' Come si presenta E spieghiamo bene Colciamo le dita Insomma sì Cosa vuoi Nessun capo Nessuna abilità usata Nessuna potina usata Quindi le cose Le posso tranquillamente Prendere addosso Eccolo Quello che vi dicevo Il goblin samano Ecco il goblin samano Infatti ha detto Mi sembra un samano Un evocatore E infatti lo è Non so cosa posso avvocare Però Almeno Proviamo subito Scusate Riscusate Allora stavo dicendo Attacco subito Oh attacca però Insomma Non fare così 18 18 Siamo vicini A One shot Tarli I mob Che dobbiamo Per me manca Qualcosina Forse un livello O un'abilità Che ci dia La possibilità Di fare più danno Quindi sì Va bene E poi Se avessi l'abilità Che riuscissi a fare Due attacchi Come faccio con lui Sarebbe molto buono Wow Questa non è malo Però possiamo Costa tanto 70 dai Non male Incominciamo a darci Degli item Belli grossi Eh Io comunque Li ho fatti Perché No per l'esigenza Per la frezza che avevo E perché Mi serve a livellare Per sbloccare Quelli dopo E quindi È una cosa Che comunque Mi preme Cambio posizione In due personaggi Invece di attaccare Che non mi interessa Allora Facciamo Così 11 E poi Eh Purtroppo Sono veloci Loro E non ci facciamo Un cazzo Facciamo così Vediamo Ok Mi ha chiuso Quelli davanti E mi va bene così Perfetto Mamma mia E adesso Posso tranquillamente Pensare a questi Con molta calma Tanto loro Picciano Picciano la miccia Aia È arrivata una botta Esagerata Insomma sì Vediamo se questo Riesce a succhiare Due Benissimo Questo riesce A ammazzare Benissimo Oh dai Andata bene Non devo usare Pozioni Verro Accidenti Sarà dura Nesto livello Poi Facciamo così Facciamo cosa Eh che cazzo Però posso Devo innescarle Non devo usare Abilità Ok Ok Quello che aveva Più di tutti Va benissimo Lo stesso Eh Gli ha dato Sanguinamento Però Me lo farò bastare Ok dimmi che c'è Rigenerazione Buono Buono Il bottino Mi fa sempre comodo Mi fa sempre piacere Cazzarola Non posso usare Abilità Ah ci sono da ridere Qui mamma mia Sa che devo fare Off camera Un bel po' di cose Per livellare Ragazzi Perché Mi sa che qui Finiamo malo Eh di Non possiamo Sempre vincere Insomma sì E vai Che cazzo Mi ha tirato Quindi Non è un avvocatore È un avvocatore Di buff Di buff Vaffangulo Eh che cazzo Saranno Grossi guai Qui Andiamo un po' Qualcosa mi ha tolto Non so cosa Adesso appena Tocca a me Mi ha tolto Ok mi ha tolto Quello più importante 13 Oh che bello E qui facciamo così Perfetto Ottimo Adesso Mi ha ucciso Niente ragazzi Abbiamo già perso La nostra La nostra cosa E quindi Niente Dovrò Arrivarci qua Se voglio Fare bene Più livellato Diciamo Quindi usiamo Le pozioni Tanto inutile Peccato che Non ci sia Pozione Che Mi riporti In vita I personaggi morti Quella L'avrei Credita Magari Ci c'è Però Però si Insomma Saccheggerei Scapperei Perché E' triste La cosa Benissimo 95 Mi ha dato un po' di cose Bisogna assolutamente Che io Libelli I miei personaggi Perché Sono troppo deboli Per questi Dungeon qui Mamma mia Quante bella cosa Questo è lo scritto Che ho già fatto Questo è l'anello Che ho già fatto Questo è la crafting Ancora debole Però Può sempre Tornare utile Perfetto Allora Facciamo il punto Della situazione Allora Qui ne vendiamo Uno Grazie Qui ne vendiamo Uno Grazie E questo Non serve Uno cazzo Quindi ne vendiamo Tutti e quattro Vediamo cos'altro Posso vendere Questo è interessante Me l'ha dato Prima Nell'eroe Oh me l'ha dato un'altra Di questo Interessante Eh Queste qui Gli effetti negativi Mi dimentico Sempre di usare Perché A volte Gli requisiti Sono proprio Cattivi Nell'eroe Che non possiamo Usare le pozioni Quindi È fatica Anche usarle Niente ragazzi Facciamo che adesso Vado a Volevo vedere Quanto avevo di livello Eh 900 punti Diciamo Più o meno Forse un po' di meno E qua ce ne vogliono Qui ce ne vogliono 600 Quindi livella Prima lui E qui ce ne vogliono 700 600 anche qua E quindi niente Dai farò Off camera Per farli livellare Questi due Perché mi serve assolutamente I talenti Cosa metterò Metterò Tanto lo so già Però me lo devo guardare Questo qui che riduce No questo non mi interessa Aumenterei l'armatura Sì sì Aumenta la probabilità Del drop È interessante Riduce il costo di Feud Del contabile Non lo uso mai Penso che andrò in questa direzione Qui come avevamo fatto Inizialmente E aumenta la probabilità Di infliggere Stordito Eh questi due Sono gli altri due livelli Che farò subito Questo appena salgo E questo poi Molto avanti Quindi con questo Farò questo Invece con lui Andrei così Aumenta il danno Della nota Penso che sia la cosa migliore In questo caso Perché questo Sì è interessante Ma non lo uso quasi mai E questo Sì è interessante Ma non lo uso quasi mai Quindi andiamo su questo E poi vediamo Vediamo cosa possiamo fare Va bene ragazzi Io direi che Ci possiamo anche fermare qua Se no Faccio un video troppo Corto Troppo lungo Se faccio un altro dungeon E quindi non mi sembra il caso Allora off camera Mi ha detto che facciamo queste cose qui Questi tre Uno due tre Li faccio Li farò anche eroiche Così a meno livello E vi ho detto cosa faccio Quindi ragazzi Io come al solito Vi invito A lasciare un like Un commento Se mi piace E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi do saluto a Shiva Ciao 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 Ciao